Uno scontro si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15 nella superstrada Due Mari in corrispondenza dell'uscita di Tegoleto in direzione Monte San Savino. Ancora al vaglio dei militari dell'arma, dei carabinieri giunti sul luogo per i rilievi è al vaglio l'esatta dinamica dell'incidente che vedrebbe due vetture coinvolte, vetture che stavano tra di loro ingaggiando una gara di velocità, due Alfa Romeo Giulietta che sarebbero andate poi a scontrarsi con un'altra auto che ha avuto la peggio. Una persona è stata trasportata per alcuni traumi anche se cosciente all'ospedale San Donato di Arezzo mentre le altre due vetture sarebbero fuggite subito dopo lo scontro. In superstrada il traffico in direzione sud è stato interrotto per circa un'ora grazie anche all'intervento della Polizia Municipale di Arezzo.